Ecco, tre cose che sicuramente non sai sul nostro servizio GSMA. Ciao, io sono Federico, aiuto aziende, progettisti e installatori a realizzare reti dati sicure e performanti vendendo prodotti e offrendo il miglior servizio clienti disponibile sul mercato. Nel momento in cui giro questo video, ottobre del 2022, sono più di 10.000 gli impianti collegati col nostro servizio GSMA. GSMA è quindi il primo servizio in Italia per numero di iscritti ad offrire una soluzione definitiva e a zero rischi per la connettività dei combinatori dei sistemi antifurto, riservato esclusivamente ad aziende che si occupano di installazione di sistemi di videosorveglianza e di antifurto. La capacità di comunicare col mondo esterno di un sistema di sicurezza è un aspetto fondamentale, addirittura governato dalla norma EN 50131 e noi in questo senso ci inseriamo offrendo un servizio a zero rischio imprevisti. Ci sono però tre cose che differenziano tantissimo il nostro servizio GSMA da una comune SIM per sistemi antifurto e magari non le sai. Ecco quali sono. Aspetto numero uno. GSMA non è una ricaricabile. Non è una ricaricabile, non ha credito, non devi spaventarti se la inserisci in un telefono o in un sistema d'allarme e ti viene scritto che il credito è zero, che il credito non è leggibile. Non è presente nessun credito. Le SIM per sistemi antifurto sono tutte ricaricabili, per cui hanno un credito, un credito che magari può scadere dopo due anni invece che dopo uno, ma può scadere. E soprattutto può azzerarsi, ad esempio, per il superamento di una soglia e quindi l'addebito degli SMS in esubero. Se questo credito va a zero, la SIM si ferma senza avvisarti. Le nostre SIM non si fermano mai e non possono mai azzerare un credito perché non ce l'hanno. Aspetto numero due. GSMA è monitorata H24 dall'intelligenza artificiale. Cosa voglio dire? Immaginati un sensore che è in tamper, una vicenda realmente avvenuta, e ti lascerò la testimonianza dell'installatore qui sotto. Hai un sensore in tamper e ti manda un sacco di SMS perché la centrale è in allarme e il problema continua a porsi. In un attimo qualsiasi SIM esaurisce la sua soglia e si blocca. La nostra GSMA non si blocca, ma contemporaneamente a noi viene segnalata l'anomalia di una SIM che fa tantissimi SMS in un giro molto stretto di tempo. Noi fermiamo la SIM, chiamiamo l'installatore, l'installatore può risolvere il problema, e noi riabilitiamo la SIM senza nessun costo aggiuntivo rispetto a quello che hai pagato per la SIM. Ma quale SIM consumer ti offre un servizio del genere? Nessuna. Aspetto numero 3, GSMA la puoi attivare quando vuoi, nel senso che le compri, le paghi, ma il periodo di validità che va da 1 a 5 anni parte dal giorno in cui tu ci mandi un whatsappino sul nostro numero dedicato col serie della SIM e dici me la attivi? E solo da quel giorno parte. Non possiamo farti pagare la SIM il giorno in cui la vendi. Questo è un servizio che non ti offriamo e se sei alla ricerca di questo, noi non te lo offriamo e non lo troverai da nessuna parte perché gli unici a offrire un servizio del genere sono coloro che danno le SIM a IoT, che però sono SIM solamente dati, ma tu puoi comprare le SIM, metterle in un cassetto e se ti servono tra 3 mesi il periodo di validità partirà in quel giorno lì e non nel giorno in cui te l'abbiamo fatturata. Per una SIM consumer il periodo di validità vale sempre dal giorno in cui dai i soldi al negoziante e la porti, per cui o la compri il giorno dell'installazione o sei costretto a rimetterci 1, 2, 3 mesi. GSM Alt non è una SIM per antifurto. GSM Alt è un servizio per installatori e professionisti che azzera problemi tecnici e burocratici di connettività dei loro combinatori GSM. Se sei alla ricerca di una soluzione di questo tipo la puoi trovare solo ed esclusivamente su www.simperantifurto.it Ciao!